è un posto bellissimo ma questo sole è veleno per le mie piume ci sarà un centro di bellezza qui certo che c'è su prego accomodati chissà che cosa starà facendo Diva Diva, questo è il miglior centro di bellezza di tutto il deserto si chiama Spreca Acqua Seller ma che nome buffo ce ne sono qui ci sono io che sei? sono Gigetto e voi siete i cuccioli, vero? vi prego aiutatemi l'acqua è sparita e tra poco qui tornerà il deserto ma certo, ti aiuteremo noi andiamo hai ragione, non c'è una sola goccia d'acqua dobbiamo scoprire dov'è finita coraggio, muoviamoci sono inciampato su qualcosa è un tubo ce ne sono altri scaviamo e vediamo dove finiscono ecco dove finisce tutta l'acqua dell'oasi salve gente ho fatto l'idromassaggio poi una doccia tonificante poi un bagno rilassante si capo ho convogliato qui dentro tutta l'acqua dell'oasi dobbiamo fermarli sono d'accordo lo sai che non c'è più acqua? non sarà mica colpa tua, vero? siamo stati noi a bloccare l'acqua Rinola aveva sottratta tutto il resto dell'oasi allora c'entri qualcosa scusa ti perdono per ora ciao 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 Grazie a tutti.